Non mi voglio assolutamente sbagliare, ma questo torneo sta prendendo forma sotto ogni profilo, soprattutto l'interesse mediatico. In tanti all'inizio molto scettici per l'ottima riuscita di questo torneo con solo sette squadre. C'è Angolana Chieti, fischia Giacomo Bavara di Valdarno. Parte a razzo il Chieti con Siracusa al quinto minuto. Il giovane e talentuoso dell'Angolana, immatricolato 2003, inizia il suo show live personale. Sesto minuto, si replica Fabrizi stoccata di controbalzo. Palla in out, sentori di vantaggio. Manco a dirlo, minuto sette. Groviglio in area, attenzione, c'è Filosa. Buona scelta di tempo ed è gol. Da rivedere. Angolana zero, Chieti uno. Ventiquattresimo, Galli protagonista. Violento il suo destro. Niente. Impennata di Casati. Il nero-azzurro tenta la conclusione. Forti, c'è. Trentacinquesimo, Galli. Innesca Fabrizi con difficoltà riesce a calciare. Puddu è decisivo. La sfera infatti colpisce il palo. Rivediamo un po' quest'azione. Prima del riposo, al quarantaduesimo, in action, Mariani. Conclusione. Ma in porta c'è sempre lui, Puddu. Dunque si va negli spogliatoi con il risultato di 0 a 1. Secondo tempo. Subito al quinto, Criscolo. Volè. Alto. Quindicesimo. Verna vede Fabrizi. Duetto finalizzato con questo tiro. Incrocio dei pali. L'Angolana si scuote. Minuto 26. Ancora Criscolo. Ancora fuori. Appena entrato, l'estroso Rodia si presenta così. Perfetta rovesciata. Puddu è attento. Grande reattività del ragazzo. Meritevole di un slow motion. Minuto 36. Il Chlamilla va in rete. Ma il tutto viene fermato per presunto offside. Vediamo un po'. L'ultimo brivido. Arrivale al 45esimo. Il neo entrato. Anche lui per l'Angolana. Festa. Sinistro. Pericoloso. Forti. Gli evita la festa. Finisce qui. Chieti batte Angolana. 0 a 1. I protagonisti. Il trainer del Chieti, Alessandro Lucarelli. Sinceramente quanto è stato difficile superare questa Angolana oggi? Ma è una partita veramente difficile ma come sapevamo è un risultato che a me piace tantissimo soprattutto per la prestazione e il modo in cui si deve soffrire in alcuni momenti perché noi avevamo l'occasione per chiuderla in maniera abbastanza agile però poi se non ci riesci devi sapere che il risultato lo puoi portare fino alla fine e devo dire che i ragazzi oggi hanno dato ancora di più una dimostrazione di compattezza di saper soffrire come le grandi squadre devono saper fare in alcuni momenti. Insomma breviti nell'ultimo quarto d'ora. Sì perché può succedere di tutto in quegli ultimi 10-15 minuti dove c'erano tutti questi valoni buttati in aria. Loro comunque avevano dei centimetri importanti e poteva essere una situazione negativa per noi. però io ho visto tantissima compattezza ancora, voglia di vincere e questo è un segnale veramente importante quindi non si molla niente come abbiamo fatto alla fine io preferisco 1-0 che con qualche gol in più questa volta. Questo è certo, è importante che arrivino i tre punti, un passo eclatante verso la final road. Alessandro? Sicuramente ci avvicina agli scontri diretti del girone di ritorno che saranno decisivi è un risultato che ci dà ancora più morale e consapevolezza che se non si può vincere di un paio di gol di scarto si può vincere anche solo di un gol di scarto. Con mister Domenico Deugenio, mister una bellissima partita, l'angolana ha lottato fino all'ultimo minuto purtroppo però il punto cercato non è arrivato. No, noi volevamo vincere, è diverso e perciò sono ancora più arrabbiato. Però il calcio è così, oggi è venuta forse la migliore prestazione soprattutto nel secondo tempo perché penso che abbiamo schiacciato il Chiedi nella loro area, abbiamo fatto una trentina di grossi, peccato che se non la buttiamo dentro non è che ce la possiamo prendere con gli altri, quindi dobbiamo vedere qualcosina in fase realizzativa perché non abbiamo concretizzato la mole di gioco, quindi è solo quello, però devo fare anche i complimenti ai ragazzi che hanno fatto veramente una grossa prestazione. Oggi veramente, forse anche il punto ci stava stretto a un certo punto, però questo è il calcio. ci corciamo le maniche e cercheremo di farci domenica, c'è poco da fare. Quindi l'angolana continua però a stupire, insomma, se l'è giocata veramente fino alla fine con la capolista. Sì, sì, ma io ci credo, ci credo e non lo faccio per dire in questi ragazzi perché sono bravi, abbiamo fatto una squadra buona, chiaramente loro magari hanno una rosa più ampia, hanno giocatori più importanti, però sicuramente abbiamo una squadra che se la può giocare con tutti. Se facciamo queste prestazioni sono convinti che ne perderemo poche. Chiaramente poi c'è anche la bravura degli altri che nell'unica occasione hanno fatto gol, questa fa anche la differenza fra le squadre che vincono e le squadre che non vincono, però io devo essere soddisfatto, oggi non posso essere arrabbiato come altre volte. Un plauso però credo vada fatto al portiere Puddu anche, no vostro? Sì, ecco, questo vediamo quando noi siamo ripartiti, questo è un 2003 che l'anno scorso parlava con gli allievi, quest'anno è stato a Matelica nella prima parte di di stagione, poi è ritornato a casa e ecco questa è una vetrina importante che noi vogliamo sfruttare per lui, per Amicone 2003, Lombardi 2002, Scurti 2003, questi sono quelli per cui noi abbiamo fatto questi minimi torneo e ci vogliamo togli soddisfazione perché secondo me abbiamo una buona formazione. Certo, forse non siamo a livello del Chiedelell'Aquila come Rosa, però oggi abbiamo dimostrato che ce la possiamo veramente giocare alla grande. E dunque mister, tanto premesso, pensando magari a una promozione dell'Aquila e del Chiedi, no? Una in modo diretto e una magari attraverso i ripescaggi viene un po' di acquolina in bocca per l'anno prossimo. Eh questo sì, questo dipende dalla società, se la società è brava a non lasciarsi sfuggire i giocatori che abbiamo e mettendo i giovani che si possiamo sicuramente divertire, poi vincere non lo so perché, però sicuramente è una squadra importante, diventa. Eccolo qua, Filosa, quanti anni hai? Sei immatricolato? 86 e c'ho 35 anni. Suonati? Sì. Suonati. Lei praticamente è stato il match winner di questo importantissimo e delicato incontro contro l'Angolana. Sei scattato, hai preso l'ascensore e hai fatto gol. Filosa? Beh, questi sono comunque schemi e tutto che proviamo durante la settimana e soprattutto il sabato che ci dedichiamo proprio alle palle inattive. È un po' raro che comunque un difensore fa gol, però magari nei momenti importanti come questi magari è venuto bene in volentieri. No, mi aspettavo la risposta, è raro che un 35enne faccia ancora gol. No, vabbè, l'età alla fine diciamo conta poco, se uno sta bene e si allena bene, 35 anni sempre se deve fare gol li fa. Insomma, la vostra casacca è total green, oggi è stata, io la definisco, un evergreen. È contento? Mi dica sì. Certo, certo, contentissimo, anche perché comunque quando l'abbiamo indossata abbiamo sempre fatto risultati positivi. Ciò non vuol dire che magari contro l'Aquila che abbiamo indossato un'altra maglia è stata una partita diciamo sbagliata, però comunque diciamo la fortunata è quella verde. Beh, io ho tanta fortuna, non direi, direi più filosa, uguale, bravura. Grazie per essere stato con noi su Telemax. Lei ci vede? Sì, 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 sì. Vuole salutare Tiziano Coccia? Un saluto a Tiziano. Grazie filosa, arrivederci, arrivederci. Allora, Puddu, immatricolato 2003, io l'ho definita oggi, direi, è vero questo, il migliore in campo in assoluto. È stata una partita diciamo combattuta, loro sono partiti più forti, però poi la partita la deciso è un episodio diciamo, perché dopo i primi 20 minuti diciamo che si è stabilizzata, soprattutto dopo il gol, il gol nostro poteva venire da un'azione all'altra. Puddu, per essere il protagonista oggi, il ristorante cosa hai mangiato? Io voglio sapere, hai parato tutto quello che c'era da parare, anche un bicchiere d'acqua. Ah, il ristorante le solite cose, carote... Sono state le carote? Carote e la pasta. Dunque, Puddu, io, scherzi a parte, visto per quanto hai fatto oggi, tra i pali, la parata migliore, reattività, concentrazione, l'hai fatto quando? Su quella rovesciata di Rodia, perché uno là dietro non sai dove va a finire il pallone. È vero. Come hai fatto a parare quella rovesciata di Rodia? Beh, è stato... Diciamo che la palla non era molto lontana, quindi è stato un attimo, ero fermo, ero piazzato bene. La palla mi è venuta quasi incontro. Hai capito Pino Di Felice? La palla, lui, ha intercettato questa rovesciata. Puddu, di nome come fai? Alessandro. Alessandro. Io le auguro tutto il bene di questo mondo. Grazie. Sportivamente e calcisticamente parlando.